ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay it e in questo video di fine anno non farò come hanno fatto anche altri canali 10 migliori giochi quelli che vi consiglio insomma no volevo solo prima di tutto farvi gli auguri di un buon anno insomma tutto può andare solo meglio e un'altra cosa volevo ricordarvi che sullo store se avete se siete iscritti epic games store potete usufruire di un buono che vi è stato dato che qua buono da 10 euro con cui potete scontare tutti i prodotti che costano più di o pari o superiori a 14 99 e di molto interessante considerando se i triple h e gli indie valhalla assassin's creed a 39 soprattutto immortals fenix rising a 40 euro meno 10 30 pezzaccio star wars squadrons a 13 l'altro adesso non mi ricordo come si chiama quello action diciamo quei combattimenti con le spade laser anch'esso a 13 99 godfall 40 watchdogs 30 e 19 e andando avanti molto interessante anche gli indie con airborne kingdom un gioco che sono tentato di prendere 6 euro 79 con lo sconto oppure shady part of me a 4 euro 99 cyberpunk a 49 99 anziché 59 e così via non vale se non erano sui preordini comunque un'altra cosa se volete aiutare il canale quando voi acquistate un gioco nella banda a destra nella barra a destra che riesce dove vi riassume il prezzo potete pagare c'è una barra in cui potete inserire il tag di un creatore potete mettere indie gameplay ita e che so acquistate 20 euro di gioco lo pagate 20 euro insomma ma date 20 centesimi al canale insomma un aiuto così per non indispensabile insomma però se volete sostenere il canale è una cosa che potete fare un'altra cosa che volevo ricordarvi domani primo di gennaio metà mattina uscirà il gioco diciamo che concluderà questo piccolo ciclo dei non solo indie che ho fatto con serious m4 e age of empire 3 la remaster insomma e domani uscirà un altro che è stata proprio microsoft grande onore per me lo ammetto chiedermi di portare un video di impressioni su quel gioco una bellissima avventura grafica devo dire poi penso di fermarmi fino al 7 di gennaio per prima di tutto lavoro la neve che sta per arrivare che spalare e però potrei fare se poi fatemi sapere nei commenti se vi va un paio di live in questi giorni da dall 1 fino al 6 7 insomma nei momenti liberi in cui comunque non lavorerò potrei fare qualche live se vi va insomma fatemi sapere sotto poi va beh se avete altri giochi siete già a conoscenza di questa offerta avete degli ottimi prezzi fatemi sapere io ovviamente vi ricordo anche come vi avevo detto anche nel video precedente lo scritto anche sbagliato ades ades vi ricordo 20 euro e 99 ma meno 10 euro 10 euro e 99 prezzaccio anch'esso infatti lo sto valutando direttamente qua in epic per me è indifferente giocare qua giocare di là ho sempre l'icona su destra poi dopo il 7 ci saranno tanti giochi in uscita alcuni sono già pronti altri devo ancora fare sono qua sotto nascosti sotto questo questa schermata qui di epic ce ne sono veramente tanti e molto interessanti alcuni altri intriganti altri che vanno gusti fatemi sapere se avete ho dimenticato qualche gioco utile qualche gioco bello bellissimo con un pezzaccio su epic se già conoscevate questa offerta di 10 euro altrimenti spero di avervi fatto cosa gradita un abbraccio a tutti vi ringrazio buon anno ancora e domani nuovo video e poi ci risentiremo o in live prima del 7 o direttamente dal 7 in poi con nuovi nuovi giochi riprenderemo la programmazione classica del lunedì mercoledì e venerdì per quanto riguarda tre giochi indie nuovi a settimana un abbraccio a tutti ancora grazie ancora per chi ha fatto nell'ultimo mese la donazione ha fatto una donazione con streamlabs lo ringrazio molto un abbraccio essenzialmente molto gradito perché mi consentirà magari di poter acquistare qualcosina da portare sul canale non è che poi faccio la villa insomma vi ringrazio davvero tanto davvero tanto e mi commuove sempre questo questo affetto e niente buon anno a tutti ragazzi alla prossima e ciao ciao